Ehi, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, io sono Paperinic08 E oggi, aspettate Aspettate, grazie E oggi ragazzi siamo su SCP Secret Laboratory Oh, io sono il 106, l'SCP migliore di questo server O meglio, l'SCP migliore di tutti, visto che è quello più forte, ecco 106 ti porta in una dimensione tascabile Dove, insomma, non puoi uscire O meglio, è molto difficile uscire adesso perché sono cercato Vabbè, comunque questo server ragazzi, cioè questo gioco ragazzi È un gioco di SCP, dove dobbiamo Possiamo essere class D, SCP, possiamo essere un sacco di persone In questo momento io sono il 106 e devo terminare tutti E non mi devo far uccidere perché se mi uccidono poi, se no, sono morto Ora, ora, questo gioco è multiplayer, no? E adesso, se io premo Q, mi dovrebbero sentire gli altri miei amici Allora Ciao Ciao, tu chi sei? Chi sei? È il computer Uh, buono, buono, buono Ah, comunque, saluta YouTube, amico Ah, ok Saluta Eh, ciao Bene Cioè, io ora non sto registrando Io sì, quindi saluta Eh, ciao Bene, iscrivetevi al mio canale Eh, anche al suo Eh, anche al suo Che non so come si chiama, però, insomma Iscrivetevi a tutti i canali A tutti quelli che hanno un canale in questo momento Mentre sto giocando a questo gioco Bene, continuiamo Tentanto sei? Chi sei? Il computer, hai detto? 079 Ah, bene, perfetto Io sono 106 E sono... Mi puoi guardare se c'è qualche class D ancora vivo? Ok Grazie Andiamo E la light? Aspetta che io non sono molto bravo Io non sono molto bravo Quindi non so la light cosa sia, però Ok, sento spari, sento spari io Ok Adesso è un bello, è la mia dimensione Adesso La 914 ho detto è vuota E infatti non c'è nessuno Andiamo Nelle altre zone a controllare, ragazzi Uh Cose? Ciao Mustad No, ci sono solo guardie Eh Dai, lo uccido Dai, lo uccido questo Dai, questo lo uccido No, 939 No, no, no Vabbè, io vado più su Allora Tesla Vediamo se c'è qualche No No Non posso crederci Ha chiamato l'ascensore E non lo siamo riusciti a prendere nessuno Oh, no Cane Andiamo, no Ma Noi non possiamo collaborare, vero? 939 106 non possono collaborare Ah, ok Non posso teamare Ok, allora mi allontano Vabbè, dai che voglio fare Un sacco di vittime Oggi voglio fare un sacco di vittime Voglio Uccidere un sacco di persone Allora, vediamo Di qua ci sono le porte aperte Quindi presumo sia passato qualcuno Presumo sia passato qualcuno Di qua Buonissimo qua Buonissimo Praticamente, raga Da qua Da qua praticamente, ragazzi Si esce dalla struttura Da qua praticamente, ragazzi Si esce dalla struttura Uscendo dalla struttura Io posso andare a uccidere gli MTF Appena arrivano Bene, bene, bene Molto, molto buono Allora, qui cosa c'è? Gate A Passiamo nel gate A E andiamo nel gate A Usciamo dal gate Anzi, usciamo proprio dalla struttura Ok, io sto uscendo dalla struttura Eh, chi Kintod Dome cavolo ti chiami Ah, bene Io esco Ok, qua sono Io sono al gate A Si, sono al gate A Eh, io C'è Gli MTF non ci sono ancora Oh, ma sento spari io Sento spari C'è qualcuno, quindi Io posso vedere quanti Quanta gente c'è di ogni squadra Anche dei caos Perfetto Ho appena Tirato una fiatata sul microfono Incredibile Allora Vabbè Oh, c'è Eh, eh, eh Un MTF Vieni qua Gabibino Il mio amichetto Vieni, vieni Gabibbo, vieni Gabibbo Vieni Gabibbo E Gabibbo è andato Gabibbo è andato Adesso manca l'altro Ha lanciato una granata Quello Vabbè Posso Allora Ora io vado Speriamo che Gabibbo Non si sia liberato Cosa che spero tantissimo Ma c'è gente là Intanto qua creiamo Un bellissimo buco nero Ok, adesso andiamo Da loro Uno è andato Dai, vieni anche te Vieni anche te Su C'è un class D Ah, è il 343 Praticamente quello Ragazzi Il 343 È tipo Immortale Tanto è mortale Quindi lui Può andare Ma c'è Ma c'è un tizio Che ha ucciso un altro Boh vabbè Andiamo dai C'è anche C'è anche il Dr. Bright Ragazzi C'è anche il Dr. Bright Wow Vabbè andate Andate lì Andate Intanto posso passare Verso le porte Dai venite 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 Blocca l'ascensore Blocca l'ascensore Oh no Una granata Allora Il Dr. Bright Andrà Il Dr. Bright Se ne andrà Nella mia bellissima dimensione Vieni Dr. Bright Vieni Il dottore Sta per andare Nella dimensione Pocket dimension Come la chiamo io Allora Un class D Allora Un class D è scappato Scappato il 343 Bene E adesso andrà pure Nella mia bellissima Dimensione Venite Dai vieni 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 Tu vieni Ops No 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 C'è il francese Che mi sta avanti Madonna No è morto il Dr. Bright Poverino Vabbè Allora Quello lo ucciderà Lui Io vado ad uccidere lui Ci sta Ah no Come piano Guardalo Guardate Aspetta un secondo Knitted Tu Guardalo Guardalo come muori Guardalo 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 Dai dai Oggi faccio la strage Raga Oggi faccio la strage Aspettate Ok Dove sto andando Vabbè Oggi faccio la strage Ragazzi Oggi faccio la strage Me lo sento Guardiamo Andiamo anche Di lato Mi sono bloccato Ok No volevo fare Il pro andando di lato Dai 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 Mancano soltanto due persone No È scappato quello Vabbè Tanto c'è Quel caos Che il cane Non è ancora riuscito a prendere Com'è che non le ho portate Nella mia dimensione Bellissima Dai venite Ragazzi Venite Eh Meg è morto Meg è morto Non è vero Non è mai morto Io forse muoio Bene Meg è morto Meg è morta Insomma È morto È morta Non so se si chiama femmina O maschio Però Morto Morta Insomma Ucciso Dal cane Adesso andiamo ad uccidere pure Tutti quegli altri mtf Che sono appena arrivati Ragazzi Andiamo Andiamo Questo caos Non si aspetta Che boom Andrà nella mia bellissima dimensione Mi diverto troppo Quando sono Il 106 Ragazzi Mi diverto Veramente troppo Andiamo 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 Dai ragazzi Uccidiamo tutti Ragazzi No ragazzi Sono morto No No Sono morto Raga Mi ha ucciso Non so neanche Chi mi ha ucciso Mi ero un attimo distratto Gabibbo Gabibbo Saluta Youtube Sto registrando Bene Dimmi Dimmi Chi era 106 Ero io 106 Perché? E invece 939 Chi era? 939 Era quel francese È francese È francese Era un francese Sì Eh vabbè Il nome Eh il nome Il nome Mi sa che è quittato Sì è andato via No non dirmi che mi bannano Comunque Comunque Paperinic Ti volevo dire Ricordati che te 939 Non potete timmare Avete fatto pure Spawn kill Che ha fatto No però Alcuni mtf L'ho ucciso Io Perché non Non c'avete neanche L'altro Il tempo Io non stavo collaborando Con 939 Perché era 939 Che mi seguiva Vabbè Io comunque Puoi essere Continuito Poi La prossima volta Ban Va bene No raga Ho appena rischiato Il ban Ho appena rischiato Il ban In un video Perfetto Vabbè Niente ragazzi Direi che Direi che per questo video Ci possiamo salutare qui Se volete altri video Su questo gioco Ditemelo Da Paperinic 08 è tutto Ciao ciao E linea Allo studio